Bella raga, rieccoci su Tavoro Fantasy. Oggi voglio continuare quella che è la mia mini serie di guide per quanto riguarda l'uscita di Vera. Arriviamo pronti a Vera, cerchiamo di capire che cosa sono le varie cose, le varie iconi della mappa, le varie meccaniche, eccetera eccetera. Quindi oggi parliamo della Grey Zone. Cos'è la Grey Zone? È semplicemente una dimensione parallela a Vera, dalla quale potremmo entrarci da livello 78, forse nel global potrebbe cambiare questa cosa. In ogni caso, l'obiettivo è chiaramente completare la mappa. Questa è un'istanza che va a tempo, quindi entriamo nel portale, abbiamo del tempo per starci dentro. In questo tempo dobbiamo fare più world exploration possibile. In ogni caso, questi portali si resettono giornalmente e ci sono anche alcuni portali che possiamo aprire in modo portato, direttamente dal nostro inventario con alcuni oggetti, ma quello è un altro punto. Voglio semplicemente farvi vedere la zona, su cosa si basa e cosa bisogna fare all'interno. Quindi iniziamo subito. Prima cosa che vogliamo fare, vogliamo aprire la mappa di Vera, chiaramente, e vogliamo cercare questi portali verdi. I portali rossi sono per quella che io chiamo Dark Zone, ma ne parleremo in un altro video. In ogni caso, cerchiamo questi portali verdi che sono intorno a una mappa, ci andiamo e ci vediamo tra poco. Ok, eccoci qua davanti al portale, quindi semplicemente, livello 78 minimo, ci entriamo e boom! E siamo nell'altra dimensione di Vera, in questa dimensione qua. Il completamento mappa non è questo, ok? Ma sarà questo qui. Come vedete ho dei reward totalmente diversi. Quello che possiamo ottenere in questa mappa sono letteralmente le stardust per i pezzi di gear, quindi è totalmente concentrata sul potenziare il nostro gear. Come vedete i mob sono diversi, la mappa è un po' diversa, nel senso che l'ambientazione è cambiata. Quello che vogliamo fare in questa mappa, chiaramente, è cercare le nostre nuove world exploration e dei portali rossi. Allora, le world exploration principalmente sono tutte delle ceste orb da raccogliere, mentre i portali rossi sono... Dei portali. No, allora, scherzi a parte, insomma, questi portali rossi praticamente sono tutta una serie di mob che noi dobbiamo... Dobbiamo killare, insomma, per avere dei reward. Adesso qua c'è una world exploration della grey zone, quindi... Cerchiamo di prenderla già che ci siamo, che chiaramente è solamente un orb, però è quello che è, insomma. Questa è un'altra world exploration, molto semplicemente queste cose qua si raccolgono, sono stardust, come vedete mi da completamente a mappa, è 50 stardust viola. Sono una versione facile dei portali che abbiamo in Artificial Island, se volete vederla così. Mentre questo davanti a me è un portale, cosa bisogna fare? Semplicemente tutti i mob che ci sono vicini, più il boss vogliamo farli fuori. Quindi, ammazziamo i mob, prendiamo i reward del portale, ed ecco, fatto. Adesso, chiaramente questi sono un debole al ghiaccio, sempre la solita fortuna. Ok, abbiamo ammazzato il boss, abbiamo ammazzato i mob e abbiamo sbloccato il ricompense del portale. Ok, e niente, come vedete mi ha dato 200 stardust, 50 vera coin e un orb gialla. Questi portali sono tanta 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 roba, ce ne sono abbastanza per tutta la grey zone, insomma. Chiaramente ci aiutiamo con l'utilizzo della mappa interattiva, anzi cerco di farvela apparire a schermo per farvi vedere un po' di quanti portali e di quante cose ci sono nella grey zone di vera. Ma direi che bene o male questo è tutto. La mappa chiaramente è piena di world exploration, stardust, portali, qualsiasi cosa di questo tipo. E nulla, è la seconda dimensione di vera. Adesso, come funziona il completamento di vera? Vera ha tre zone di mappa, ok? Nel senso, non sono tre mappe diverse, ma ha letteralmente zona 1, zona 2 e zona 3, vedetela così, ok? E, di conseguenza, anche la verde ha tre zone di mappa, quindi tutti questi punti sono l'insieme di tutta la mappa che c'è qui. Quindi, chiaramente le ricompense sono diverse, perché nella grey zone, come vi ho fatto vedere, le ricompense sono le stardust per il gear e chiaramente saranno sempre anche i vera coin e i gachapon che servono per utilizzare le slot machine. Mentre c'era anche la dark zone, dove le ricompense saranno basate sul nuovo gear, quindi il vecchio gear, grey zone, nuovo gear, dark zone. Ma in ogni caso, è tutto sempre utile perché il vecchio gear rimarrà il gear attuale che noi utilizziamo e per il nuovo gear si intendono molto semplicemente i nuovi pezzi che noi andremo a fare, che sono principalmente questi tre qui, d'accordo? Quindi, niente, io direi che per la grey zone è tutto, è veramente tutto, è molto molto semplice, queste sono tutte le world exploration che ci sono. Adesso, chiaramente, questo mob gli sto molto antipatico a quanto pare, quindi aspettiamo, vediamo di risolvere il problema. Eccoci qua. Allora, nulla, veramente, questo è tutto per quanto riguarda la grey zone, raga. Io volevo farvi vedere un attimo come funzionava. I portali si entra a livello 78, quindi prima di poterci entrare ci vorrò un po'. Il motivo per il quale si entra al 78 è perché alcuni boss e alcuni mob sono un po' tostini e l'altro è perché loro non vogliono farci entrare nel 78, tutto qui. Quindi, niente, spero sia stato utile, questa era una mini guida per la grey zone. Fatemi sapere se vi è stata utile, se volete avere altri contenuti di questo tipo su Tower of Fantasy. Per il resto noi ci vediamo live su Twitch tutte le sere dalle 21. Grazie a tutti per il supporto, vi auguro una buona giornata, fate i bravi, alla prossima e bella! Grazie a tutti!